La colpa di tutto quello che accade è in particolar modo dei soggetti italiani definiti così tiepidi, dei soggetti appartenenti ad una falsa sinistra e dei soggetti appartenenti ad una falsa destra. Molti dicono che abbiamo ciò che meritiamo e che la colpa è solo ed esclusivamente nostra. No, la colpa non è mia. Io non ho mai votato per questo soggetto e non sono mai rimasto indifferente di fronte a tutto lo scempio che viene perpetrato da questa classe politica traditrice. Questi sono i grandi acquisti politici che fece il nostro amato Berlusconi. Ma vi rendete conto che costui è stato in Parlamento un pagliaccio che prendeva 20.000 euro al mese e che oggi prende un'indennità che un italiano medio si sogna e gli italiani non arrivano alla fine del mese e molti di costoro fanno la fila per prendere un pacco alimentare. Questo è stato un senatore pagato da noi. Certo, lui chiaramente è molto felice e può ballare pieno di felicità perché non fa un tubo dalla mattina alla sera ed è pagato proprio da noi. Potremmo dire che è il pagliaccio più pagato al mondo. Bisogna ringraziare il nostro Berlusca che adesso si trova tra le fiamme del fuoco dell'inferno se gente così è entrata in Parlamento. Questo soggetto era un parlamentare italiano di Forza Italia e in futuro dobbiamo anche risarcirlo con il vitalizio che loro stessi si sono votati. Questo è un rappresentante esemplare dei nostri governanti. Questo è un ex senatore che vorrebbe tuttora essere eletto alle elezioni europee per prenderci per i fondelli come ha fatto quando era in Parlamento. Un burattino, un pagliaccio pagato da noi che non ha fatto niente per il popolo italiano così come tanti altri eletti che ora si godono il vitalizio e continuano a prenderci per i fondelli e che ancora hanno visibilità in questo paese. Questo è un soggetto che stiamo continuando a pagare noi. Quante persone ci sono che hanno lavorato sotto il sole, la pioggia, la neve, il letame e che prendono meno di mille euro al mese di pensione e sono costretti a vedere questo soggetto. Carissimi fratelli, come potete ben vedere il canale non ha più la pubblicità e dunque non ha più la monetizzazione. Per motivi inspiegabili il Tubo ci ha voluto privare di questo piccolo aiuto. Dunque non contano più i like e non contano più le visualizzazioni. Noi viviamo soltanto con le vostre donazioni. Ci sono circa 45.000 iscritti e di questi 45.000 soltanto 6 sono le persone che fanno delle donazioni. Basterebbe che un numero un po' più forbito donasse anche il costo di un caffè. Io mi affido completamente alla provvidenza di Dio. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Venga il tuo regno e benedico tutti i miei fratelli. A me. Sinceramente quando, 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 quando